amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi abbiamo l'officina che a dir poco straborda abbiamo veramente tante tante macchine facciamo un video su questa questa è una un audi a7 con il motore 3000 tdi da 286 cavalli in versione hybrid quindi un v6 da 286 cavalli col col con l'hybrid di supporto allora questo non è che abbiamo fatto grossissime cose un cliente che seguì gli seguiamo un po la manutenzione abbiamo fatto alcuni lavori precedentemente ad esempio tanto per far vedere abbiamo verniciato adesso chiaramente sono è un lavoro fatto mesi fa avevamo verniciato le pinze dei freni gialle ma ha fatto appunto pinze dei freni pastiglie avevamo rivisto gli ammortizzatori diciamo che è una macchina che stiamo seguendo un po anche nella manutenzione più che nell'elaborazione adesso il cliente al di là di quello che è la normale manutenzione ci ha chiesto di avere qualche cosa in più a livello di prestazioni e quindi abbiamo una macchina che chiaramente fuori garanzia abbiamo riprogrammato il software della centralina elettronica principale la centralina elettronica principale è questa quindi non abbiamo aggiunto le centralina elettron perché non aveva senso con una macchina fuori garanzia quindi non c'è il pericolo di decadimento della garanzia l'unica cosa che quando si fanno questo genere di lavori bisogna avvertire il cliente che nel caso in cui vada in assistenza audi deve dire di non far fare aggiornamenti software perché ovviamente se non vanno a sovrascrivere il file perderebbe il lavoro che gli abbiamo fatto quindi in sostanza viene rivisto e rifatto il software di gestione elettronica motore in maniera particolare le pressioni turbo e le pressioni rail che sono le due fattori principali oltre ovviamente a tutta un'altra serie di dati dei fattori in maniera tale da avere una macchina assolutamente affidabile noi come al solito nonostante che sia una macchina dove si possono prendere più cavalli di quelli che noi alla fine daremo su questa macchina noi ci attestiamo sempre più o meno su una trentina di cavalli questo per un motivo molto semplice uno vabbè per risorse di affidabilità ma due perché se tutte queste macchine di ultima generazione o relativamente recenti e comunque hanno il FAP il fatto di avere il FAP cioè il FIS antiparticolato e il catalizzatore crea una sorta di tappo fra la turbina e questo gruppo di filtri quando noi andiamo a riprogrammare la centena elettronica ovviamente per avere più prestazioni bisogna dare più pressione al turbo più pressione al turbo significa che il turbo girerà più velocemente e questo genererà ovviamente più calore perché è sempre un discorso di causa-effetto quindi se noi abbiamo questi due tappi che fanno appunto da filtro rispetto alla turbina se io faccio girare oltre limiti accettabili la turbina vado a creare in questo pezzo di scarico che si chiama downpipe quindi questa temperatura eccessiva che cosa potrebbe creare ovviamente soprattutto sulla parte turbina e soprattutto sulla parte diciamo delicata che è la parte centrale il coreassi dove c'è l'alberino con le giranti le quali lavorano o su cuscinetti ma non è il caso di questa turbina o su delle bronzine il fatto di aumentare in maniera esponenziale la temperatura fa sì che queste bronzine arrivino a un punto di collasso per cui chiaramente la turbina ne risente meccanicamente ecco il perché noi diciamo sempre attenetevi a degli incrementi di sicurezza cioè quelli che vi propongono che su macchine ma anche più piccole di queste noi abbiamo sentito non citiamo chi per benove ragioni ma spessissimo ci capitano dei clienti dove ci dicono ma il famoso preparatore XYZ ci ha proposto il doppio dei cavalli di quelli che noi proponiamo cioè su una macchina del genere sono capaci di proporre 70 cavalli quindi al di là del fatto che è un dato assolutamente fittizio me lo auguro e già quello non va bene dare cavalli così in più che non ci sono ma nel momento in cui effettivamente perché comunque sarebbe possibile se aumenta in maniera molto maggiore la percentuale di pressione della turbina e si arriva a potenze anche di 60 si potrebbe arrivare anche a potenze di 60-70 cavalli in questo caso per la spiegazione che vi ho dato prima la turbina verrebbe condannata assolutamente quindi sia in un caso sia nell'altro chi vi propone delle potenze che non quadrano fateci una bella riflessione perché bene che vada vi ha dato la metà dei cavalli che vi dichiara male che vada fate fuori il turbo quindi diciamo che fateci voi i vostri ragionamenti quindi per il momento al di là della normale manutenzione quello che abbiamo fatto è questo adesso andremo fuori a provare la macchina vediamo che tutto funzioni correttamente però ripeto è un tipo di lavoro che noi facciamo con relativa semplicità in questo caso non è stata fatta l'ultimo appunto non è stata fatta via seriale quindi i dati non sono stati messi tramite la presa OBD ma abbiamo poi tra l'altro è molto semplice adesso verrà riposizionato il coperchio di copertura la copertura abbiamo dovuto smontare la centralina e collegarci con i pin con uno schema ben preciso quindi va fatta a banco come si suol dire in maniera tale da trasferire da scaricare il software e ricaricare il software modificato quindi si fa o ripeto in una maniera piuttosto che nell'altra l'unica cosa che noi cerchiamo di non fare è proprio aprire la centralina cioè aprire queste guarnizioni e lavorare all'interno della centralina è un lavoro che a noi non piace fare quindi quando ci troviamo siccome tutte le centraline hanno un seriale e capiamo già prima di metterci le mani che tipo di lavorazione o con che strumenti lavorare quando ci troviamo nel macchinario ci segnala che va aperta la centralina piuttosto in quel caso anche se la macchina fuori garanzia preferiamo suggerire al cliente la Seletron perché a questo punto aprire le centraline è una cosa che a livello di umidità a livello di rischio non è una cosa molto piacevole quindi le centraline vanno sempre lasciate chiuse poi che uno le smonti fisicamente, le metta sul banchetto colleghi la cavetteria o le faccia via preso B di rischi non ce ne sono io direi che anche per questa Audi A7 3000 turbodiesel per oggi è tutto per qualunque informazione contattateci in sede allo 027383175 io sono lì a disposizione di chiunque dal lunedì al venerdì controllate, andate a consultare il sito www.nomenagiri.it sia nella parte diciamo di servizi che noi proponiamo sia nella parte archivio elaborazione dove troverete più di 3600 schede vettura suddivise per marca cliccate sulla campanella e soprattutto vi chiediamo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima